Buongiorno, hai la mascherina? Sì, è importante no in questi giorni? Sì, sì, molto. Mascherine? Qua? Eh? Tu? Avete? No, no. Finite? Finito. Una via pistoiese ci dicono qua, meno trafficata del solito. Che ieri qui non c'era nessuno. In genere c'è il cambio di frutta e verdura? No capodanno quest'anno. No, no, io l'arrivo poco poco. Porti la mascherina sempre in questi giorni? No sempre. Quanto deve interagire in un spazio che ho chiuso? Lei non ha paura? Sì, lei non ha paura. Noi paura di loro. E qui iniziano le dolenti note della discriminazione. Molti ci raccontano di essere stati evitati per strada. È brutto. Sì, è triste. Ci sono molte persone. Di mettere la mano davanti al cuore e dire che questo momento è difficile, difficile per tutti. Senti, pensi siano state nascoste delle cose all'inizio? In Cina? Che non si è detto subito? Io su questo non sono competente, ecco. E c'è poi chi è filo nazionalista? Un miliardo al mese di vivevole popolazione è morto tipo 300 persone. Soprattutto 356 è già curato. Quindi penso che la situazione è abbastanza positiva in questo senso. Grazie.